Matteo Ruffini, Lorenzo Quadrini, la Chigliottina della Poglini, ogni processo, Denis Verdini e tutti i servizi, tutti i salvini, un teatro più, uno vestito... Iniziata con Il Botto, la 47esima edizione del Carnevale di Agropoli, organizzato dall'Associazione Il Carro e dalla Città di Agropoli. Migliaia di persone hanno assistito alla prima sfilata dei carri allegorici. Il corteo è partito da Via Salvo d'Acquisto per raggiungere il centro cittadino tra due ali di folla. 8 i carri presenti, 7 quelli che si contenderanno la vittoria finale. Rione Giotto, Rione Moio, Rione Varco Cilentano, Rione Mattine, Rione Piano delle Pere, Eredita e Rione Moio 2. Si replica a martedì di Carnevale oppure in caso di pioggia il prossimo 25 febbraio. Da Piazza Vittorio Veneto di Agropoli diamo ufficialmente inizio alla 47esima, Fabio? 47, 47. La 47esima edizione del Festival del Carnevale. Allora, non siamo come Sanremo, noi che ne ha 68 di edizione, noi siamo più piccolini. 47. Allora, insieme alla bella Antonella, le voci ufficiali di questo... Ne manca una però, ci raggiunge dopo. Noi siamo qui. Quest'anno sono beato tra le donne più degli altri anni. Allora, intanto la sfilata è appena partita, la stiamo aspettando, raggiungeranno tutti i protagonisti questa piazza. Un'anticipazione di quello che sarà il Carnevale di martedì. Allora, noi speriamo soprattutto che le condizioni meteo ci possono venire incontro perché solitamente quando si fanno queste grandi manifestazioni si va a guardare sempre chissà che tempo farà. Però voglio dire, noi lo speriamo perché ad Agropoli cambia sempre di ora in ora, giorno in giorno e quindi un'anticipazione quest'oggi che è domenica con la prima grande sfilata. Buonasera, buonasera. Stiamo cercando i carri, ma la sfilata è partita? È in fondo, sì. Beh, iniziamo la sfilata con... Marina di Camerota. Una rappresentanza del Carnevale di Camerota. Marina di Camerota, sì. Questo è il Tritone Marino. Vincitore della scorsa edizione? Esatto. Questo è il carro più piccolo, è il carro di apertura del Carnevale di Agropoli in Cajardin. Quarantasettesima edizione. Buonasera. Buonasera. Ci siamo, eh? Ci siamo, siamo contentissimi. C'è tanta tanta gente, noi siamo contentissimi. Sono belli i carri, la gente si sta divertendo e noi siamo contentissimi. Allora, ci ricorda quanti carri sono? Allora, sono sette in gara, più questo di apertura dell'associazione, più abbiamo una delegazione di Marina di Camerota che sfila con dei costumi bellissimi.